Sì, sono il tuo tuo sottile padre. Faceva il medico in una clinica, nel 95 venne accusato di pratiche poco consoni all'interno di questa clinica e nel 99 la mamma invece si suiciderà. In quegli anni partecipa come è comparsa in Law and Order e in Buffy, l'ammazza vampiri, ma è nel 2014, a 40 anni suonati, che la sua vita cambia. Grazie a un provino inviato quasi per caso allo sceneggiatore del Trono di Spade, David Binoff, che è il marito di Sarah Paulson, l'attrice e una delle migliori amiche di Pedro Pascal, ottiene la parte di Oberyn Martell nella quarta stagione della serie ambientata a Westeros. Il suo ruolo è apprezzatissimo, ma dura solo una stagione, tanto basta ad aprirgli le porte del successo. Nel 2015 è l'agente federale Yavet Pignan nella serie Narcos su Netflix. Nel 2016 compare in The Great Wall, al fianco di Matt Damon, mentre negli anni successivi partecipa a Kingsman, The Equalizer 2, Tribal Frontier e a Wonder Woman 1984. È solo negli ultimi tre mesi, però, che Pascal ha attirato un interesse senza precedenti sulla stampa e sui social, che comunque sembrano iniziare metterlo a disagio. Per due motivi. È il protagonista di due tra le serie più criticate e discusse di questo momento, The Last of Us e The Mandalorian. In The Last of Us interpreta un contrabbandiere che cerca di sopravvivere in un'America post-apocalittica, dove c'è un'infezione funginea, mentre nell'altra serie The Mandalorian, e quindi nell'universo di Star Wars, interpreta un cacciatore di taglie di cui non si vede quasi mai il volto. In entrambe le serie TV interpreta un uomo dall'aria burbera e taciturna, che deve fare di tutto per proteggere due creature più deboli, più fragili, Baby Yoda e la piccola Ellie. Questo ha portato Pascal ad essere visto come una sorta di figura paterna, e se a questo aggiungiamo il fatto che comunque è un attore molto affascinante, molti utenti hanno iniziato a scherzare che vorrebbero che Pascal fosse il loro paparino. E Daddy, nello slang di internet, ha iniziato ad indicare uomini di mezza età, di bell'aspetto, ma anche molto misteriosi, affascinanti, tenebrosi, ma anche dall'aria un po' goffa e spontanea. Inizialmente Pedro Pascal ci ha scherzato su questa cosa. Con Vanity Fair si è sottoposto alla macchina della verità e ha detto che essere Daddy è uno stato d'animo. In una seconda intervista, in cui gli si chiedeva di commentare un tweet di una ragazza che aveva scritto «Vorrei fosse il mio Daddy figo e arrapante», si è rivolto verso la telecamera dicendo «Ma io sono il tuo paparino figo e arrapante». E insomma, questo è l'animo e racchiude l'animo di Pedro Pascal. E in un'epoca post-Brad Pitt, forse Pedro Pascal è l'ideale di ciò che un attore protagonista dovrebbe essere. È simpatico senza essere viscido, a suo agio senza risultare troppo arrogante, condivide aneddoti su se stesso che sembrano sinceri e non artificiosamente creati per essere dati in pasto ai media. In un'intervista di GQ in cui gli si chiedeva di dire le dieci cose senza cui non potresti vivere, mentre la maggior parte delle celebrità faceva vedere la sua macchina vintage, la sua macchina fotografica e le sue ricchezze, la sua musica e i suoi gusti musicali, Pedro Pascal invece ha fatto vedere le mutande, l'intimo, gli occhiali da sole, tutte cose che lo riportano e lo fanno, insomma, avvicinare a un pubblico di persone assolutamente normali, una persona normale, affascinante, che fa un lavoro straordinario per chi lo vede da questa parte dello schermo. Il punto, però, è che negli ultimi mesi Pascal ha iniziato a sentirsi in imbarazzo di fronte alle cose che gli vengono dette, soprattutto sui social. Durante un'intervista per The Mandalorian, la giornalista gli elencava alcuni tweet sconsi sul suo conto, lui li ha letti e, con aria un po' preoccupata, non ha voluto rispondere, dicendo alla giornalista, insomma, ti ringrazio per il tuo lavoro, ma non intendo rispondere. Almeno, fino alla notte degli Oscar, quando è diventato virale il meme in cui Pedro Pascal si rivolge alla videocamera e la indica con il dito e, insomma, bellissimo, con questi occhiali, con questo vestito per la notte degli Oscar, per un meme che ha messo in risalto la sua figura, ma che ci ha anche fatto capire quanto siamo ossessionati da personaggi come Pedro Pascal e che forse sarebbe il caso di smetterla, di buttare addosso a questi personaggi, anche famosi, la nostra ossessione. Scrive il giornalista King Il trattamento a cui è sottoposto Pascal è sintomo di una questione molto più ampia. La nostra necessità di trovare una nuova tendenza virale o un individuo con cui essere ossessionati ogni settimana per mantenere alto il nostro livello di serotonina. Dipendiamo da queste piattaforme e il loro ritmo frenetico ci impedisce di fare una discussione più approfondita sul fatto che i contenuti che consumiamo siano etici o meno. Non c'è dubbio che Pedro Pascal sia una delle personalità più forti, più amate del momento e riesce trasversalmente a piacere al pubblico di internet. Fatemi sapere cosa ne pensate su questa storia nei commenti qui sotto. Sono molto curioso di sapere la vostra opinione e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube Ciacchiazione Al prossimo video!